Cari amici, domenica scorsa un gruppo di pellegrini provenienti da Battipaglia guidati dai nostri carissimi Anna e Donato sono venuti nel Tempio della Regina di Gigli per implorare dalla Mamma Celeste la grazia di accogliere Gesù nei loro cuori, come lo accorse lei, cioè con la stessa purezza, la stessa fede, lo stesso amore e hanno chiesto il coraggio di impegnarsi nel mondo per difendere i veri valori umani e cristiani, come la famiglia fondata sul matrimonio fedele e indissolubile tra un uomo e una donna, la difesa della vita fin dal suo concedimento e la difesa della casa comune, la nostra madre terra, così come la chiamava San Francesco. L'incontro con Gesù, favorito dalla presenza della Regina di Gigli, non ha mancato di produrre i suoi frutti nella gioia di vivere che si è risvegliata in tutti e che si è espressa in modo particolare nel canto di lode a Gesù. 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 Ai quanto dico so, da te ti ha amato, a te che sei del mondo, il creatore, mancano paio e po', oh mio Signore. Ai quanto dico so, da te che sei del mondo, il creatore, mancano paio e po', oh mio Signore. Ai quanto dico so, da te che sei del mondo, il creatore, mancano paio e po', oh mio Signore. E' irrefrenabile, quando il cuore è pieno di Gesù, nessuno può fermarci. Per Gesù e Pup, per Gesù Cristo e Pup.